Vivo Facile, buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi di quelli che io personalmente considero i flop di Eurospin, quindi dei prodotti con cui non mi sono trovata bene, e lo faccio, sapete anche se io adoro Eurospin, ci vado sempre, compro tantissime cose e quelli che io considero flop sono, secondo me, neanche il 5% di tutto quello che per me è validissimo. Però, come ogni rosa ha le sue spine, anche ogni Eurospin, ogni supermercato ha i suoi floponi. Iniziamo subito. E inizio con i flop di tipo alimentare, che non sono, secondo me, tantissimi, però qualcosa c'è. Il primo flop, secondo me, nella mia esperienza, è stato il tonno ondina. È un tonno che non mi piace, semplicemente perché è molto sbricioloso, quindi non è quel bel tonno chiaro, compatto, che, diciamo, riuscite a scagliare bene, che si vede bene il tonno, come è fatto, eccetera. È proprio briciole, briciole totali, unite ad olio e devo dire che anche il gusto non mi ha assolutamente soddisfatta. Quindi io il tonno ondina non lo comprerò più. Un altro prodotto che non compro più da Eurospin, provato una volta in diverse confezioni e mai più ricomprate, è il prosciutto cotto invaschettato. Ce ne sono di diversi tipi, ma anche quello definito alta qualità non mi piace per niente. Lo trovo il classico prosciutto cotto invaschetta con quelle, diciamo, fette un po' traslucide, un po' bagnatine, e anche il sapore non mi è piaciuto per niente. È vero che è difficile trovare un buon prosciutto cotto invaschetta, di solito i salumi andrebbero presi al taglio, però, ecco, andando su marca un pochino più blasonate, si trova qualcosina di meglio. Quindi io, a livello di prosciutto invaschettato, se proprio ne ho l'esigenza per un qualche motivo, non scelgo più i prodotti di Eurospin. Passando invece al discorso detergenza, un flop che considero super flop è il detersivo per i piatti in tannica gialla da 3 litri, scusate, di Dexal, quindi diciamo quella che viene chiamata ricarica. È vero che uno ha tanto detersivo, è vero che al litro costa meno, però è anche vero che ne devi buttare a quintali sulla spugna per ottenere un risultato decente. Almeno questa è la mia esperienza, perché so che ad altre persone piace, io lo trovo veramente molto anacquato. Preferisco di gran lunga un altro compagno, cugino di questo detersivo che è sempre un Dexal, ma della linea Amore Essere, quindi è un ecolabel, poco impattante, senza coloranti all'interno e veramente ne basta pochissimo per ottenere un'ottima schiuma ed un ottimo lavaggio. Tra l'altro il Dexal Amore Essere è stato detersivo a piatti definito come uno dei migliori detersivi da un'associazione che tutela i consumatori e quindi insomma perché devo prendere la ricarica anacquata se posso avere il meglio. Sempre per quello che concerne la detergenza, io vi faccio vedere un prodotto che in questo momento in realtà il flacone è vuoto perché lo sto riciclando, ma è un prodotto che io ho utilizzato. Ed è il Dexal Pluribac Bagno. Meravigliosa l'idea che esista un disinfettante vero, quindi delineato dal Ministero della Salute come presidio medico chirurgico in un discount a poco prezzo, però devo dire che a me non convince tanto la profumazione di questo Dexal Pluribac. Non ha il classico odore del disinfettante come ad esempio potrebbe essere un lisoforo ma ha un odore poco gradevole e quindi quando uno va a pulire magari anche il bagno a passare poi il disinfettante dopo la pulizia rimane quella profumazione che non mi piace che non sa né di carne né di pesce per così dire. E tra l'altro spruzzandolo mi è capitato di innalarlo un pochino e mi dava anche fastidio alla gola. Quindi personalmente è un prodotto che non compro più, però anche lì va un po' la questione a gusti. Devo dire che però a livello di profumazione secondo me ognuno di noi può rendersi conto che non è tutta questa gran roba. Quindi Dexal Pluribac Bagno per me è un flop. Un altro super flopone di Dexal è questo Dexal Essenza e Detergente Universale. Tra l'altro è flop anche perché era stato molto sponsorizzato all'interno dei punti vendita come una grande novità. Devo dire che è stato in realtà un flop colossale perché questa Essenza che vorrebbe secondo me un po' ricalcare detergenti come l'Olee, quindi quei profumatori super, in realtà non soltanto ha una profumazione super piatta, cioè è un profumo che secondo me è associabile ad un normale di odorante da bagno, però anche non dura assolutamente nulla. È evanescente in una maniera cosmica. E tra l'altro, oltre ad essere anche evanescente, dovrebbe avere una funzione a detergente che per me invece non funziona. Ho provato su delle superfici laccate e ho visto che lascia degli aloni stratosferici. Quindi devo dire che è un flop sotto tutti i profili. Infatti non so neanche più io come utilizzarlo, lo vado ad utilizzare in bagno, però quando tu lo spruzzi esce acqua da tutte le parti, cioè si spruzza non in maniera asciutta e quindi poi cade anche sui pavimenti, eccetera. Anche questo non è proprio piacevole per quello che concerne appunto un prodotto di questo tipo a spray. Però, a parte questo, è proprio il fatto che non duri, che abbia una profumazione inesistente ed evanescente e che non deterga nulla per quello che è il mio parere. Quindi questo flop totale. Tra i floponi di Eurospin poi potrei inserire senza ombra di dubbio tutti gli ammorbidenti, tutti quelli che ho provato di Dexal non sono sufficienti a livello di profumazione. Devo dire che non è facile, devo dire che anche tutti gli altri che ho provato negli altri discount hanno la stessa pecca di non profumare abbastanza e a lungo soprattutto, quindi io mi tengo cari i miei pochissimi ammorbidenti amici e gli altri li lascio tranquillamente andare, tra cui appunto quelli di Dexal. E poi lui, il super flopone top, punta di diamante dei flop di Eurospin, è il, per me, boy alla lavanda detersivo in polvere. Sarà chi è andato a sostituire il mio detersivo in polvere preferito, che purtroppo non tornerà più, ovvero il fu Dexal alla lavanda in polvere. Parliamo di un detersivo meraviglioso, faceva venire dei bianchi stratosferici, un profumo di pulito quando si andava a far asciugare i capi con una leggera punta di lavanda che per me è stato indimenticabile. Era il degno sostituto del Dash in polvere. Purtroppo hanno deciso di toglierlo e in sostituzione appunto hanno messo questo boy alla lavanda, che io ovviamente ho voluto provare o dovuto provare, ma che non mi ha soddisfatto per niente e per la mia esperienza di detersivi nella mia vita è stato il peggiore polvere mai provato. Perché una volta che io apro l'oblò della lavatrice, non so se vi è mai capitato di, per sbaglio, mettere a lavare i panni senza mettere il detersivo, a me è successo. Poi a lavaggio finito vi rendete conto che non lo avete messo e ve ne rendete anche conto da quell'odore di, non lo so, sì, di non lavato, di non pulito. Ecco, io ho ottenuto la stessa odore andando ad utilizzare questo detersivo. Quindi come se io non avessi utilizzato nulla. Anche a livello di performance sul bianco non è paragonabile minimamente al suo predecessore, quindi non mi è piaciuto per nulla, non lo ricomprerò assolutamente più. E ora devo trovare anche un sostituto degno del Dexal, altrimenti vi toccherà riprendere nuovamente il Dash. E questi sono i miei flop, secondo me appunto, di Eurospin, fatemi sapere se anche per voi è la stessa cosa, se invece questi prodotti vi piacciono e soprattutto se c'è qualcosa che di Eurospin proprio non sopportate. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.